Ben ritrovati, torniamo a parlare di fotografia e con piacere lo facciamo con un nostro amico di Teletutto Racconta, Matteo Biatta, ciao ben ritrovato, è tornato dall'Africa occidentale il 7 di aprile, quindi possiamo dire davvero da un mesetto, parliamo di epidemia di Ebola in Africa occidentale, è stata una catastrofe, ho letto questi dati oggi, davvero mi hanno lasciato senza fiato, che ha ucciso più di 11 mila persone, tra gli stati più colpiti c'è stata la Sierra Leone che con 4 mila morti ha avuto il maggior numero di vittime dopo la Liberia, alcuni dei sopravvissuti hanno accettato di farsi fotografare dopo la guarigione e a fotografarli è stato proprio Matteo, innanzitutto prima di entrare proprio nel merito di questa esperienza dal punto di vista professionale, perché tu sei un fotoreporter, dal punto di vista umano cosa ti ha lasciato, che segno ti ha lasciato questa esperienza in Sierra Leone? Dal punto di vista umano, allora c'è da dire che io sono andato con il Fatebene Fratelli nell'ospedale di Lunsar, che è appunto questo che vediamo nella foto, che è a circa un centinaio di chilometri da Freetown, la capitale, e dal punto di vista umano sono rimasto molto colpito dallo sforzo incredibile che le persone stanno facendo per evitare che ci siano nuovi nuovi contagi. Questi sforzi li sta facendo l'ospedale, li stanno facendo tutte le strutture pubbliche, diciamo, e dal punto di vista umano c'è da dire anche che ho trovato persone come Isatu, per esempio, che era questa donna di 50 anni, che hanno una forza incredibile perché sopravvivono e vivono nonostante abbiano attraversato una vera tempesta. In particolare, per esempio, visto che adesso la vediamo, la storia di questa donna... Lei ha perso durante l'epidemia la sorella e il marito e nove figli, poi ha fatto quello che dalla legge della Sierra Leone era vietato durante l'epidemia e ha seppellito in giardino il marito e due figli e l'ha fatto lei a mani nude. Se è ammalata debola, è guarita, ha trovato un altro uomo il quale ha sofferto debola, lei è rimasta incinta e ha perso il decimo figlio in gravidanza. Una storia davvero drammatica, ma tu, Matteo, hai provato sulla pelle il terrore del contagio? Allora, c'è stato un episodio che adesso mi fa sorridere, però al momento è stato trattato con un po' di attenzione. È successo semplicemente che sono stato toccato da un parente di un paziente che aveva la febbre e la febbre è purtroppo uno dei primi sintomi dell'ebola. È il primo sintomo di altre mille malattie molto meno gravi, però purtroppo è anche quello. E siccome lì c'è questa attenzione ovviamente a nuovi casi, ho dovuto tagliare la maglia che avevo e l'ho fatta bruciare nei rifiuti infetti. Poi, per fortuna, a questa persona sono state fatte le analisi e siccome non ho più saputo nulla, deduco non avesse quello. Però anche quando ho parlato col medico che mi ha consigliato di fare questo passo, mi ha detto sicuramente è stata una precauzione eccessiva, però visto e considerato il rischio e visto quello che è successo, è meglio così. È meglio così, anche perché addirittura le persone arrivavano a non stringersi più la mano, cioè ad avere paura, il divieto, ad avere paura di qualsiasi minimo contatto. In ospedale non ci si tocca e fuori, c'è in ospedale, ci sono molti cartelli che raccomandano di non toccarsi. Raccomandano il metodo giusto per lavarsi le mani in modo tale da averle effettivamente disinfettate e di farlo col disinfettante e questi cartelli ci sono anche al di fuori dell'ospedale in tutte le strutture pubbliche. Tra i vari avvisi c'è anche quello di non toccarsi mai. Anche all'aeroporto ci sono tantissimi schermi che avvisano quali sono i sintomi e quali sono i comportamenti da tenere e uno dei primi e uno dei più importanti è quello di non toccarsi. Queste persone che noi vediamo, ritratte in queste tue suggestive fotografie, sono tutte persone che hanno vinto l'ebola. Questo è Ibrahim, 22 anni, lui ha sofferto l'ebola due settimane ed è stato molto sfortunato da un lato, poverino, perché ha perso i fratelli, ha perso le sorelle, ha perso il papà e ha perso la mamma, ha perso tutti. Lui come si è salvato? Lui? Lui si è salvato. Lui si è salvato, ha sofferto due settimane di ebola. E' quello, tra quelli che ho incontrato, è quello che ha sofferto il minor tempo. Il minor tempo? Il minor tempo, perché quasi tutti quelli che ho incontrato hanno sofferto un mese, due mesi. Quello che ha sofferto di più, tra le persone che ho incontrato, è un bambino di due anni che ha sofferto per tre mesi e poi è guarito. E Ibrahim è questo ragazzo che ha sofferto due settimane e la sfortuna è stata che poi è stato adottato da una mamma che è morta d'ebola ed è morta anche quella che l'ha adottato dopo. Lui è rimasto solo. Adesso fa parte dell'associazione Sopravvissuti all'ebola che si occupa di aiutare chi come lui ha perso tutto e magari ha avuto il virus ed è sopravvissuto. Il problema dell'ebola, al di là del contagio, molto facile, il problema è che non sono solo i morti ma sono i sopravvissuti che non hanno più nulla. Come i bambini ad esempio della scuola dove hai visitato. Come la scuola dove sono andato a fare delle fotografie. Cioè un terzo di questi bambini ha perso entrambi i genitori. 300, sì, 390 alunni. 390, 102 orfani. 102 orfani di ebola. Però stanno facendo una cosa molto importante anche qui. Ho assistito io alle lezioni e ho sentito e ho visto quando la maestra fa recitare una specie di filastrocca e in questa filastrocca ci sono tutti i sintomi di ebola. Quindi i bambini imparano un po' come se fosse un gioco. Un gioco. Tanto per alleggerire insomma la cosa, visto che già hanno avuto modo di avere a che fare con la malattia, anche se indirettamente, è fortuna loro. Però imparano quali sono i sintomi e soprattutto possono tornare in villaggio e insegnarlo agli anziani che sono più diffidenti nei confronti. A volte davvero i bambini sono il tramite proprio per le comunicazioni più importanti e più significative. Ecco queste fotografie davvero che arrivano dritte al cuore perché veramente a volte un'immagine racconta più di una serie di parole. Esatto. Poi verranno divulgate, cioè sulla tua pagina Facebook le possiamo vedere, ma pensi di fare una mostra? Allora con il Fatebene Fratelli stiamo cercando chi possa aiutarci a finanziare questa mostra. In effetti è comunque eventualmente una sponsorizzazione minima, nel senso che una mostra fotografica io già avevo pensato di stampare tra le 20 e le 25 immagini, non di più, per cui comunque non si tratta di grandi investimenti. E speriamo appunto di trovarlo perché innanzitutto secondo noi è molto importante che si capisca come le persone là stanno affrontando questo problema che non è assolutamente finito. Ecco esatto, questo volevo chiederti, cioè l'epidemia non è terminata. Allora l'epidemia è finita, l'epidemia è stata dichiarata finita, la Serra Leone è stata dichiarata ad epidemia finita il 6 novembre del 2015, epidemia finita. Si è ammalata una donna a gennaio che è guarita il 18 di marzo, però in Liberia e in Guinea ne sono morti 5 in tutto nel periodo in cui io ero in Serra Leone. Allora il problema è questo, che avendo appunto come abbiamo detto questa facilità di contagio c'è il rischio che da semplici contagi, da semplici casi, i contagi aumentino molto. Per cui ecco perché è importante far conoscere il lavoro che stanno facendo di educazione delle persone per evitare che appunto ci siano questi nuovi contagi. Loro hanno questo tipo di malattia, ha dei fattori di rischio che possono essere eliminati e uno di quelli che può essere eliminato è il mangiare carne di animale poco cotta. Certo perché il virus viene molto dagli animali. Arriva dall'animale, arriva dall'animale. Allora il problema qual è? Che mangiano carne poco cotta e l'altro problema è che i ragazzini giocano con gli animali nella foresta, con le scimmie, con i babbuini. Il primo malato di Evola di quest'ultima epidemia è stato un bambino di due anni che in Guinea giocava nel tronco di un albero dove c'erano i pipistrelli della frutta. E da lì lui ha contratto il virus ma da lì è partita l'epidemia che si è fermata dopo un anno e mezzo. Certo, certo. È una situazione davvero drammatica per chi ha perso la vita ma come giustamente hai detto tu anche per i sopravvissuti. Soprattutto io immagino davvero questi bambini, 102 orfani. 102 orfani. È davvero una situazione incredibile. E per fortuna nei loro villaggi vengono gestiti, diciamo, dagli adulti. Cioè se ne prendono cura comunque in qualche modo. Non hanno più nulla. Non hanno più nulla. Quindi è molto importante davvero far capire e vedere anche attraverso le immagini che hai ritratto tu, davvero la situazione devastante, drammatica che queste persone hanno vissuto e che molte di loro continuano purtroppo ancora a vivere. E vivranno per molto tempo. Esatto, c'è l'immagine della donna che mi hai fatto vedere se io penso a tutti i lutti che ha avuto nella sua casa. Veramente devastante. Anche il coraggio che questa donna ha avuto nell'andare avanti ma anche la vediamo in questa immagine nel farsi ritrarre da te con questo volto che non è proprio segno di disperazione e dolore, ma quasi di una speranza, di buon ausficio per quello che verrà. Ma questa speranza io l'ho trovata in tanti sopravvissuti. L'ho trovata in Ibrahim, il ragazzo che abbiamo visto prima, che comunque nonostante abbia perso la famiglia, nonostante abbia perso le madri adottive che ha avuto dopo, comunque mi ha detto la mia vita adesso ha un senso perché io faccio parte di questo. Eccolo qui. Faccio parte di questa associazione e posso aiutare qualcuno. Quindi sono sopravvissuto per qualcosa, non per nulla. Ma è bello questo. E un'altra persona che mi ha colpito molto è stata la ragazza di 19 anni incinta che ho fotografato. Ho fotografato questa ragazza, appunto 19 anni, ha sofferto debola. Eccola, la vediamo. Ha sofferto debola, ha perso i familiari. Poi dopo essere sopravvissuta al virus mi ha detto non posso lasciarmi andare perché ho il dovere molare di andare avanti, perché la mia famiglia non c'è più e io non posso lasciarmi andare. Ho trovato un compagno, sono incinta, sono all'ottavo mese di gravidanza, ormai a questo punto avrà partorito, perché all'ottavo mese quando l'ho fotografata io, stava bene, tra l'altro. Sì, sì, stava bene e lei mi ha detto una cosa molto bella che rappresenta un po' la mentalità che hanno i sopravvissuti. Lei mi ha detto io cerco di essere positiva e ho fiducia nel mio futuro perché penso sempre che domani il sole sorgerà ancora e qualcosa di buono la giornata lo porterà comunque. Che belle, queste parole sono davvero straordinarie, dovremmo fare le nostre, no? Anche per la nostra quotidianità qui. E a te invece cosa ha lasciato? Cioè quando poi sei salito sull'aereo e sei tornato per tornare qui in Italia, qual è la sensazione più forte che avevi, l'emozione più grande? Ma la sensazione più forte sicuramente il fatto di aver toccato con mano quello che prima avevo visto in televisione, ovviamente come tutti durante il periodo dell'epidemia e diciamo anche un po' la sorpresa di trovare questa situazione di paura che io non credevo di trovare perché andando l'epidemia finita onestamente non immaginavo. E devo dire anche che è stato un po' stressante. È una cosa che ovviamente per uno come me che va è una cosa di cui non ci si può lamentare perché uno sceglie di andare. A differenza di chi... È stata una scelta la tua. Esatto. Consapevole. Chiunque che faccia il medico, l'infermiere, il fotografo, il giornalista, qualunque cosa, se va è perché ha scelto di andare e quindi non ha diritto di lamentarsi. Però onestamente ho trovato questa situazione, queste regole ferre all'interno dell'ospedale e anche comunque in tutte le strutture pubbliche che lasciano, che fanno vivere con un po' di ansia. Ecco, diciamo, per cui onestamente quando poi sono salito sull'aereo ho pensato che potevo tornare a casa. Adesso è finita, potevo tornare alla normalità, anche al contatto con gli altri. Il contatto con gli altri. Sì, sì, ma poi proprio nella vita di tutti i giorni era diventato una cosa fastidiosa, molto fastidiosa. Però allo stesso tempo sono tornato con una grandissima ammirazione per queste persone che invece lì vivono. Lì non hanno scelto di andare come me, che comunque sono rimasto un mese e poi sono tornato a casa mia e sono tornato a fare la mia vita e loro nonostante vivano lì e quindi abbiano anche questa paura perché all'interno dell'ospedale i nuovi casi in Liberia, il nuovo caso in Liberia, i nuovi casi in Guinea sono stati presi come una tragedia. Assolutamente, sì. Il direttore dell'ospedale quando gli ho chiesto se aveva sentito lui mi ha detto noi aspettiamo. Solo così ti ha detto. Loro, loro, quando purtroppo come in tutti gli ospedali qualche paziente non ce la fa, e viene portato all'obitorio, chi è addetto al trasporto della salma si veste come durante l'epidemia con la tuta, la maschera, i guanti, ok? Hanno stoccato 15.000 tute nei magazzini e lui mi ha detto l'ho fatto perché qui purtroppo in tanti villaggi lo stile di vita non è cambiato e il fatto che non ci sia l'epidemia visto e considerato che comunque gli animali sono, non ammalati, però sono portatori sani. Portatori sani. Ok. E se non cambia lo stile di vita, il fatto che non ci siano nuovi casi e non ci sia un'epidemia è fortuna. Quindi insomma si affidano a questi bambini che con la loro filastrocca, la loro canzoncina portano questi messaggi non solo positivi di gioia perché quei loro volti portano la gioia ma anche messaggi concreti sulla prevenzione perché è su quella strada che bisogna andare. E si affidano anche a questo lavoro incredibile che sta facendo l'ospedale di educazione proprio delle persone. Grazie per essere stato qui davvero con noi Matteo, la tua pagina Facebook Matteo Biatta da Fotojournalist per vedere tutte queste immagini e anche molto molto di più. Grazie per essere stato con noi. Grazie. 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 Grazie.